Qualche volta abbiamo pure fatto la posteggia, sai cos'è la posteggia? La posteggia sarebbe una conquista. Bella questa! No, no, hai ragione, hai ragione, perché non sei nel nostro campo e te posso capire. Però te l'hai da ricerche perché se tu mi domandi se tu mi domandi che cos'è il terzo passo, non tu sai ci ricerche che non è nel mio campo, perciò non fa cattiva. Comunque la posteggia che cos'è? Con la chitarra, cantare, voce accompagnata da uno strumento e fare una specie di posteggia, cioè la stai posteggiando con la canzone. Maestro? Maestro? Ci è? Fatti vedere. Sa zitto che adesso inizia il diretto, sa zitto. Ah no ma guarda la diretta la sera già è iniziata. Come certo? come ci è iniziata! No, non è nata. Sa zitto fa fa più più. Fatto fare il primo anno, lei? Lo prima piano. Eh, facciamo pure la terrazza qua, ma tu sei qui, tu sei una mica sa chi su sei tu? Si sei tu. Io sono nuovo cameraman tv campan mano. Ah, ti ne vuoi stare il nuovo cameraman? Ah, hai nuova cameraman? Io sono nuovo cameraman che sei un nuovo cameraman? Io sono nuova quarantani di Mariano da Ripponino, torno e pomidori. E tutto quanto questo panino, torno e pomidori. Mamma mia. Guarda, che questo è un piano basso facciamo proprio a capire ha già fai è che vede vedo tutto nero è tutto nero e ma tu so aspetta tu rompe telecamera dopo fattelo maria non da panino a me te lo do io facciamo un primo piano a rosè quando porti di piedi 43 42 perché mamma che tutti questi costi pure i pier palla palla facciamo ragazzi il nuovo cameraman gira con noi negli studi io ricordo si riesca però sono un fenomeno alessia ormai è andata già a casa ridendo noi stavamo parlando nella posteggia quindi la posteggia con uno strumento e la voce si dedica una canzone alla ragazza alle persone che vogliono posso spiegare io cos'è vai si spiega posteggia a loro posteggio che dice alessia è quella così ma come appoggio qua perché sono accorti sono un po so se ho detto così piano piano primo piano vedi so poco per lo disco ma se c'è bello a c'è la facebook oppure il numero di telefono a questa poste gioccolato posteggio quello che dice il crocato con chitarre la mano fuoco o poco coro a coro con il suono chitarrello sospirava un anno nero bravo è visto è visto veramente bravo complimenti alessia la posteggia poi dentro regia non rimanere un po con te due quattro e dopo venire l'altra volta per fare faccio il panino nel pomodoro si allora faccio terzo piano ci mettiamo un po grattaci la roba